La signorina sta dicendo che c'è una canzone che attraverso la quale si è innamorata con la quale si è sposata, si sono separati due anni fa, si sono rincontrati sei anni fa, stanno nuovamente insieme e tutto questo Tarniterra è legata sempre a te, su musica e setta, loro nella torre c'hanno occhi da orientale Io penso che sia proprio del consenso questa sensazione Io che io la faccio, io che possiamo lasciare le stanzate due Signorina, vuol dire al suo zio che noi domani lasciamo le stanze due e mezza, quattordici e trenta? Non dodici, quattordici e trenta, grazie Siamo fatta Siamo fatta Grazie 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 per la visione!